ciao ragazzi nineggio torna come sapete in alcuni video ci sarà la mia faccia registrata con un gopro in alcuni no in questo no perchè è veloce c'è con me giuseppe di la come l'ha promesso mangiati da perduta come promesso si torna a giocare un po com'è questo gioco il canale vediamo ragazzi mai giocato un gioco di tour de france mai guardata la tour de france non è uno sport che mi sono appassionato tante non mi sono mai appassionato tante è la prima volta siamo 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 to the fox temere la tratta da 6 km a mai vedere la roma ok ragazzi io non mi potrei guidare non lo so consiglio consiglio o la fa o la fa o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo ad essere più stanco ragazzi. Non sono tanto appassionati nei giochi di guida ragazzi. Non sono tanto anche il caldo di miniatura. Non sono tanto appassionati nei giochi di guida. Ma gli altri non ci sono? Ah forse prima ci sono i preliminari. Non c'è un aerodinamico. Non c'è tanto da dire ragazzi. E' un gioco non ha ai massimi livelli. E' un gioco semplice. Sono tanto appassionato a questi giochi. Già lo sapete. Già ve l'ho detto. Adesso con i ragazzi, anzi con Beppe per oggi. Consiglio di cercare di fare. Prima porteremo il tornei della PS3 con FIFA 18. Fut con PS3. Anzi chi mi vuole sfidare con Fut PS3 mi cerca. Non lo so. Allora scrivetemi nei commenti chi vuole giocare con me. E poi faremo qualche partita insieme. Lo spazio ai ragazzi che praticamente non possono. Ragazzi non so che cavolo è successo. Si è bloccato il gioco. Ok ragazzi non è. Allora ho capito che sto gioco non è grandier. Io direi di staccare in questo video. Noi ci vediamo tra un po' con Giuseppe. Rimenete qui nel canale di Nilelle. Perché tra un po' ci sarà un gioco pazzesco. Ci saranno tanti giochi. Vi spoilerò che ci saranno dei giochi pazzeschi con il Kinect. Ciao ragazzi. Allo prossimo video. Bella ragazzi.